Ciao a tutti, oggi farò un esperimento sociale che riguarda la gentilezza. Lavorerò in un bar, vediamo quante persone mi diranno ciao. Andiamo. Ciao, prego. Ciao, ciao, prego. Ciao, ciao, prego. Sì, basta così. No, prego. Eh, mi dia uno lì. Vediamo. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, volevo un nuovo coppia e cacciucchini. Ciao, prego. Ciao. Perché lei è in Italia, io sono in Italia. Sì, perché sono? Ciao. Ecco lei, grazie. Ciao. Ciao, grazie. 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 Grazie a tutti.